Negli ultimi giorni è uscita la notizia che Metamask inizierà a tracciare gli indirizzi IP dei suoi utenti durante le transazioni on-chain, ovvero non durante tutta la giornata, ma solamente quando questi utenti effettueranno una transazione vera e propria. In questo video vi faccio vedere un metodo che utilizzavo già prima io per altri motivi, ma che tra l'altro ci viene in aiuto anche per questo caso. Come possiamo vedere su questo articolo di Cointelegraph, Metamask inizierà a collezionare gli IP address e gli Ethereum wallet address durante le transazioni on-chain. Però qui vediamo che ConsenSys, ovvero chi ha creato il portafoglio di Metamask, spiega come questa collezione degli indirizzi IP e dei wallet address verrà effettuata solamente se si usa l'RPC di default di Metamask oppure Infura. Vediamo però come utilizzando un nostro node Ethereum oppure un RPC provider di terze parti, il nostro wallet non sarà soggetto a questi aggiornamenti. E quindi vediamo come creare un nostro RPC personale in modo che il nostro indirizzi IP non venga tracciato, ma anche per rendere le nostre transazioni molto più veloci rispetto ad utilizzare le RPC standard di Metamask. Per farlo recatevi nel link che vi lascio qui sotto in descrizione che vi porta sulla piattaforma di Alchemy. Se avete già un account potete andare su SignIn, altrimenti cliccate su Get Started For Free. In questo caso io ho già l'account, quindi faccio solamente l'accesso. Una volta entrati ci troveremo in questa schermata dove è appunto presente la dashboard. In questo caso io ho già un network attivo sulla Polygon Mainnet, però in questo caso voglio andare su Create App, metterci un nome come ad esempio il mio nodo Ethereum, poi in description ci metto che lo userò per verificare le mie transazioni, e in chain qui posso sia cliccare e cambiare tra Ethereum, Polygon, Solana, Arbitrum, Optimism o Astar, ma in questo caso a me va benissimo Ethereum, e poi in network posso scegliere tra la Mainnet e in questo caso la Goerly, perché tutte le altre testnet sono state deprecate. In questo caso a me va benissimo la Mainnet, ma ovviamente anche se avessi scelto ad esempio Polygon, qui avrei potuto scegliere Polygon Mainnet oppure Polygon Mumbai, ovvero la testnet di Polygon. Io torno su Ethereum, e in questo caso sempre Mainnet, e poi qui sotto clicco su Create App. Adesso per settare le RPC su Metamask io vi farò vedere la mia chiave, ma ovviamente voi non fate vedere la vostra a nessuno, tanto io questa dopo il video la eliminerò, e vediamo qui come c'è l'APKey, HTTPS e il WebSocket. Adesso andiamo sul nostro Metamask, qui dove possiamo scegliere le reti, clicchiamo e scendendo qui sotto andiamo su Aggiungi rete. Una volta aperta questa schermata, clicchiamo su Add Network Manually, e adesso in nome rete possiamo ad esempio scrivere Alchemy Ethereum, poi andiamo sulla dashboard di Alchemy e facciamo copia e incolla dell'HTTPS, quindi del nostro RPC Provider, e lo inseriamo qui in nuovo URL RPC. Poi adesso vi lascio un attimo a schermo questa pagina, dove vedete appunto quali sono i Chain ID. Per l'Ethereum Mainnet ad esempio è la 1, per la Goerly è la 5, poi invece se passiamo a Polygon per la Mainnet 137, mentre per la Testnet è 80001. In questo caso quindi a me serve l'Ethereum Mainnet, ovvero il numero 1, io qui sotto in Chain ID metterò 1. Per il Currency Symbol mettiamo ETH, e come potete vedere qui sotto Chain ID c'è scritto che appunto questo Chain ID è già usato dalla Mainnet Network. Questo non è un errore, però sul nostro Metamask è già presente un'altra rete che utilizza sempre questo Chain ID. Ovviamente potete andare avanti comunque perché questo appunto non è un errore. E poi qui sotto, anche se è opzionale, ci chiede il Block Explorer, ovvero per Ethereum è https2.com slash etherscan.io Questo slash finale posso anche eliminarlo, e poi clicco su Salva. Una volta fatto vediamo come appunto Alchemy Ethereum è stato aggiunto correttamente al nostro Metamask, e infatti io vedo lo stesso bilancio che vedrei sul mio account non andando su Alchemy Ethereum, ma passando alla rete Ethereum principale. Vediamo come è sempre 0.208, ovvero 10 dollari e 29, e come qui su Alchemy Ethereum sia appunto la stessa cifra. Adesso volendo io posso tornare sul mio Alchemy, uscire da questa schermata, cliccare sul mio nodo Ethereum, e vedere tutte queste informazioni. Quindi oltre a non permettere a Metamask di tracciare il mio indirizzo IP, ci sono in realtà moltissime altre funzioni che possiamo utilizzare con questo metodo. Ed anche per questo video è tutto, io spero di esservi stato utile, e se così fosse lasciate like, iscrivetevi al canale, ed attivate la campanellina, per non perdervi ulteriori video sempre inerenti a questo mondo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao! 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 Grazie.